Siamo scesi in piazza oggi per manifestare il nostro dissenso contro questa riforma, una riforma che non ci appartiene, una riforma che noi non vogliamo, una riforma che è stata approvata nonostante tutte le ondate di protesta che ci sono state due anni fa. Ma scendere in piazza oggi non è inutile, è utile perché la gente deve capire che noi siamo contro questa riforma, tutti devono capire che questa riforma è sbagliata, che questa riforma priverà il diritto allo studio a tanti giovani, a quelli che verranno e lo farà già per quelli che dovranno andare all'università un domani. Quindi dobbiamo scendere, dobbiamo protestare e dobbiamo far capire alla gente che noi siamo contro questa riforma, che siamo contro questo modo di fare politica perché questa non è la volontà generale, la democrazia si basa sulla volontà generale. Questa riforma che attualmente può sembrare molto marginale alla maggior parte della gente a causa di una totale disinformazione, noi attualmente la stiamo sentendo sulla nostra pelle, noi come studenti, perché alle nostre scuole sta mancando tutto. Dalle cose primarie, come carta, come computer, se qualcosa si rompesse, i soldi non ci sono e verrà tutto immagazzinato. Non abbiamo i soldi per le supplenze e non abbiamo i soldi neanche per la carta igienica.